Strasburgo ha respinto il ricorso della Sea-Watch. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha deciso di non applicare le misure provvisorie richieste dalla nave e di non chiedere dunque alle autorità italiane di far sbarcare i migranti soccorsi in mare da giorni a bordo della nave, alla quale è stato impedito di entrare nel porto di Lampedusa. Stanchi, sfiniti e esausti, i 42 migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea-Watch a 16 miglia da Lampedusa, avevano da poche ore lanciato un appello. Fateci sbarcare. Le condizioni di salute, dice la portavoce di Sea-Watch Italia, Giorgia Linardi, sono preoccupanti. La temperatura durante il giorno è alta, le persone sono sul ponte al caldo, la notte dormono sul ponte, non siamo su una nave da crociera. In un'intervista a Repubblica, la capitana tedesca 31enne Karola Racchete aveva dichiarato di essere pronta a forzare la situazione qualora non fosse arrivata una soluzione, mentre in un video pubblicato da Forum Lampedusa Solidale, uno dei migranti soccorsi in mare aveva lanciato un allarme.